Ormai mezzanotte è passata e siamo qui con Monica Frassoni, che ho appena intervistato nell'altra stanza, quindi ormai c'è anche una certa confidenza. Ed è stato molto bello, avete parlato del vostro libro, del rapporto tra l'Unione Europea e le politiche che fanno le donne e il viceversa in qualche modo, come poi le donne fanno questa Unione Europea. E quindi io le ripropongo un po' una domanda che in qualche modo era stata parzialmente già fatta, che è lei ha un po' raccontato l'incisività delle donne sulle politiche dell'Unione. E quindi quale crede che sia oggi la grande ricchezza dell'Europa per le donne? La prima ricchezza dell'Europa per le donne è il fatto che esista, nel senso che esiste un luogo dove, o un continente diciamo, dove c'è un quadro di regole che non sono perfette, le battaglie non sono finite, in particolare il tema della violenza è un tema veramente continentale, non pensiamo che sia a nord o sud, esiste davvero ovunque ancora in Europa la violenza sulle donne. Però è un quadro nel quale il tema della parità fra gli uomini e le donne è diventata nel corso dei decenni un tema normale, un tema di reale conquista, un tema, io mi ricordo quando sono arrivata al Parlamento Europeo, la questione della parità di genere, del fatto che dovesse esistere insomma in un modo ancora più forte questa grande libertà, perché poi alla fine la parità fra le donne è soprattutto un tema di libertà, è una questione sicuramente presente ma ancora non così chiara come oggi. Il problema che noi vediamo però è che esattamente come il sogno europeo, esattamente come la democrazia, esattamente come la libertà, esattamente come la pace, anche il tema della libertà delle donne o della parità delle donne non è mai veramente conquistato del tutto e quindi ha bisogno di molta cura. Io penso che nel nostro paese non solo sia in atto una vera regressione e che questa regressione sia in qualche modo collegata alla regressione culturale rispetto al tema della libertà dei diritti per tutti, al tema del rifiuto del razzismo, al tema anche della battaglia per i cambiamenti climatici. Chissà perché gli ecoscettici sono anche un po' macisti e sono spesso molto reazionari, quindi penso che dobbiamo sempre guardare e vagamente autoritari e quindi credo che dobbiamo sempre vedere queste battaglie come delle battaglie per l'umanità e non solamente per le donne. Sì, forse gli ecoscettici sono anche un po' euroscettici. Sì, spesso, assolutamente. Mi sono dimenticata l'euroscettico, ha fatto esattamente così. Era un gioco perfetto. E proprio a proposito di ambiente, quali sono le emergenze più grandi del nostro paese e quali le priorità? Perché spesso non sono la stessa cosa, no? No, credo che in effetti sì, non sono la stessa cosa, però in questo caso credo che le priorità più che di ambiente, io vorrei dire che non bisogna parlare solo di ambiente, perché quando uno dice ambiente gli viene in mente l'alberello, che è fantastico, che è super importante, la conservazione della natura è veramente un tema fondamentale. Io però preferisco parlare di transizione ecologica. La transizione ecologica è la cosa che è il passaggio da una società all'altra e da un valore profondamente rivoluzionario e positivo e ci dà l'idea di movimento. E quindi io credo che la priorità più importante sia quella di convincere giovani, vecchi, medi, tutte le persone che questa transizione ecologica conviene a tutti, perché sia dal punto di vista sociale, e quindi delle prospettive di quello che sarà la nostra società o di quello che è la nostra società, che da un punto di vista economico, industriale, perfino della bellezza di vivere, il tema di come noi ci adattiamo ai buttamenti climatici e come noi gestiamo la scarsità di risorse è veramente il tema numero uno. Ed è il tema numero uno che ci deve anche in qualche modo appassionare, anche perché è legato con la funzione dell'Europa. Noi non possiamo fare la transizione ecologica a casa nostra, ovviamente la possiamo fare, ma abbiamo bisogno di un quadro più ampio. Quindi dal piccolo al grande credo che questo tema della transizione ecologica sia davvero prioritario, sia davvero importante e ancora una volta non si tratta di politica ambientale, ma si tratta di una politica globale che quindi possiamo articolarla. Mi chiedevi quali sono le priorità, evidentemente il fatto che il 70% delle case italiane saranno con noi fra 50 anni e che lasciano andare energia da tutti i buchi, evidentemente è un bellissimo cantiere, perché noi abbiamo perso con la crisi un sacco di posti di lavoro in edilizia. Questo è, non posso neanche dire sarà, è già il modo attraverso il quale vengono riformate delle forze di lavoro, si trovano nuovi posti di lavoro, molto più che costruendo nuove case. Ho fatto solo un piccolo esempio, però mi sembra che questo sia una priorità interessante.